Ci sono buone notizie sul fronte della cultura in Molise. I dati del 2017 fanno registrare infatti un incremento di visitatori in linea con quello che è l'andamento nazionale. Tra i luoghi visitati l'incremento maggiore lo ha fatto registrare il Castello Pandone di Venafro. Ottime le notizie per la cultura molisana. I dati definitivi del 2017 segnano il nuovo record per i musei italiani, ma inaspettatamente tra questi appunto anche quelli molisani. E se in Italia è stata superata la soglia dei 50 milioni di visitatori con incassi che sfiorano i 200 milioni di euro, anche nella nostra regione si è registrato e con piacere un notevole incremento rispetto al 2016. A sorpresa in Molise la differenza tra il 2016 e il 2017 dei visitatori dei beni culturali ha fatto segnare uno più 4,4%. E nello specifico il primato va al Castello Pandone di Venafro che quest'anno ha richiamato ben 2.076 visitatori a fronte dei 551 dell'anno precedente con un incremento del 276%. E a chi ancora non lo avesse visitato ricordiamo che il castello è suddiviso in due ale. In una ci sono le ambienti che dal 1443 sono stati abitati dal conte Enrico Pandone e dalla sua famiglia e che accolgono spettacolari affreschi. Nell'altra è ospitato invece il Museo Nazionale del Molise con opere pittoriche risalenti all'età paleocristiana fino all'età moderna. Un sito di cultura dunque che finalmente in molti hanno riscoperto mostrando di apprezzarlo per ciò che effettivamente rappresenta e vale.